Episodi delle sacre scritture, figure di santi appartenenti alla tradizione popolare, protettori delle più disparate professioni. Sono le litografie proposte nella mostra La Stamperia Verdoni, fabbricanti di immagini nella Torino dell'Ottocento, aperta al pubblico in biblioteca fino al 5 giugno. Una collezione unica che annovera circa mille litografie e numerose incisioni, di cui 400 prodotte dalla Manifattura Verdoni. La collezione che qui presentiamo è una parte di una collezione di circa mille pezzi raccolti tra il Piemonte e la Val d'Osta, da mio padre prima e da me dopo. La parte che qua presentiamo racchiude principalmente il lavoro della Manifattura Verdoni, ma la collezione intera riguarda 58 manifatture tra il Piemonte, la Val d'Osta, ma anche altre parti d'Europa come la Francia.